Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video del mio canale Oggi siamo con Somo04pistanoT Ciao, che stiamo facendo una bella Girata con la vita Comunque, stasera vi faremo un po' vedere Vabbè, ovviamente quelli del mio canale Saranno forse alcuni del mio paese Però vabbè, noi stasera faremo un bel giretto qui a Ospi E faremo un po' vedere Ciao Ok raga, siamo qui Non in mezzo, non al centro del paese Però siamo qui adesso alla chiesa Che è la seconda che abbiamo nel paese, credo E adesso passeremo dalla Piazza Roma Che è dall'altra parte E faremo vedere anche la prima chiesa Che è il centro del paese Allora raga, prima che arriviamo alla chiesa Vi lascio un mi piace e un commento In questo video E passate anche dal canale, siamo mezzo a quattro eh Siamo qui alla chiesa In questo momento, questa qua è la chiesa principale di Ospi Altre chiese non ce ne sono Quindi, niente Vi lascio le immagini Adesso possiamo anche andare dritti da quella parte Vi facciamo anche vedere il cimitero Che non avrete ancora visto Però ve lo faccio vedere comunque Seguitemi Seguitemi Vai tu parti parti Seguitemi Stiamo passando adesso qui Ma dai Ma dai Stiamo passando adesso per andare dritti dritti al cimitero E vi faccio vedere Va bene? Andiamo Ora siamo arrivati al cimitero In giro camera Ok, siamo qui Adesso al cimitero Se vi sentite un po' così Che ho un po' di fiatone Perché abbiamo un corso per arrivare qua Visto che è lontano da dove erano prima Poi qui c'è il parco Da questa parte dove state venendo Anche me e anche il parco Ecco, il cimitero E adesso Perfetto raga Si prosegue Adesso c'è anche il campo da calcio Proprio Alla notte a destra Non si sente Adesso ci sarà il campo da calcio Da questa parte A destra Bravo Adesso raga Scusate Non soffionato C'è un nico da far paura Figa Forza prescia Forza 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 Siamo qui adesso sempre al campeggio e campeggio al campo da calcio e ora siamo adesso nelle zone private. Passa davanti a me. Adesso passiamo da questa zona di qua, andremo a sinistra e faremo vedere altri. Poi ragazzi, uno spoiler, se arriviamo a 10 like, faccio un video di Halloween ed entriamo, adesso vi farò vedere Entrerò, raga, con Samu, là in fondo. Ok, voi direte, eh ma là in fondo ci sono luce e cose del genere? Non lì, raga, più in fondo, là in fondo appunto. Entriamo lì e se raggiungiamo però i 15 like andiamo in fondo. Aspetta Non sono il tuo cagnolino Cosa? Sto registrando Porco Ma ti fermi in mezzo? Sì Io stavo andando in bici e non stavo frenando Ok, dormo Ok, raga, abbiamo finito adesso di fare il giretto Vabbè, se non si è capito è notte, quasi sono le otto e mezzo Quasi E niente Io ringrazio Samu4YT Ecco Ringrazio il mio cameraman che mi ha seguito Niente, voi allora iscrivetevi qua al suo canale Poi iscrivetevi anche al mio canale Instagram E il suo canale Instagram del mio cameraman Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate tanti mi piace Arriviamo a 10 like e a ottobre A fine ottobre Registreremo il video di Halloween a quel piccolo Quel posto lì buio che avete visto prima Niente, noi ci vediamo Ciao a tutti Ciao raga Bella Ciao a tutti